E' Anton Pfeiffer, contadino di 80 anni, l'uomo morto questa mattina nel piccolo paesino di La Costa, meglio conosciuto come Sight in un tragico incidente con il trattore. Il tutto è accaduto poco dopo le 7 al Maso Fritscher. Pfeiffer, come ogni mattina, ha messo in moto il suo trattore iniziando quella che sarebbe stata un'altra lunga giornata di lavoro sui campi. Una giornata come tante altre è passata, ma qualcosa è andato storto. L'uomo ha imboccato una stradina sterrata che dal Maso scende verso i campi, una strada che conosceva bene e che più volte aveva fatto. Improvvisamente però ha perso il controllo del mezzo che, ribaltandosi, l'ha schiacciato non lasciandogli scampo. Increduli e scioccati per quanto accaduto ai familiari che si sono chiusi nel loro silenzio più che comprensibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti.